In questo video menzionerò 10 problemi comuni che i veicoli Kia Optima dal 2015 al 2020 tendono a riscontrare. Numero 1. Alcuni dei motori GDI da 2.4 litri dei primi modelli di questa generazione sono soggetti a guasti prematuri e talvolta catastrofi. Numero 2. Il turbocompressore in alcuni dei motori turbocompressi GDI da 2 litri è soggetto a guasti prematuri e deve essere sostituito. Numero 3. La vernice esterna di alcuni di questi veicoli tende a scheggiarsi facilmente. Numero 4. I componenti in plastica degli alzacristalli tendono con il tempo a rompersi impedendo al finestrino di sollevarsi. Numero 5. L'accoppiatore dello sterzo in alcuni di questi veicoli tende a disintegrarsi nel tempo. Quando questa parte si disintegra, provoca suoni sordi quando si gira il volante da un lato all'altro. Per correggere questo problema, è necessario sostituire l'accoppiatore dello sterzo danneggiato con una nuova parte. Numero 6. Alcuni motori GDI da 2.4 litri tendono a bruciare olio motore. Numero 7. Alcuni modelli del 2016 sono stati richiamati negli Stati Uniti a causa di difetti di fabbricazione dell'asse motore anteriore destro che lo rendono soggetto a fratture. La riparazione consisteva nella sostituzione dell'asse motore difettoso con un nuovo pezzo migliorato. Numero 8. Alcuni modelli del 2011 della generazione precedente e modelli fino al 2017 di questa generazione. Equipaggiati con motori a benzina GDI da 2 litri e 2.4 litri furono richiamati negli Stati Uniti. Poiché la linea metallica del carburante che si collega alla pompa del carburante ad alta pressione montata sul motore tende a sviluppare perdite di carburante che potrebbero causare l'incendio del motore. Numero 9. La resistenza del motore del ventilatore in alcuni di questi veicoli è soggetta a malfunzionamenti. Quando questa parte non funziona correttamente, il motore del ventilatore del riscaldatore funziona solo a una velocità o non funziona affatto. Numero 10. La trasmissione automatica in alcuni di questi veicoli è soggetta a malfunzionamenti. E in alcuni casi, la trasmissione automatica subisce un guasto prematuro e deve essere riparata o sostituita con una nuova. Questi sono 10 problemi comuni che i veicoli Kia Optima dal 2015 al 2020 tendono a riscontrare.